Non era la vita che avrebbe dovuto fare a capirlo e ad aiutarla, sono state la sorella e alcune amiche che si sono rivolte alla Polizia di Stato. E' così finito l'incubo che andava avanti ormai da due anni per una giovane ragazza, il cui compagno si era rivelato essere una persona diversa, una coppia giovane, entrambi poco più che ventenni, e avrebbero dovuto essere spensierati e gioiosi. Ma la vita insieme era invece diventata un incubo, i maltrattamenti subiti ogni giorno non erano percepiti come forme di violenza e abuso della sua persona. La ragazza viveva ormai in uno stato di assoluta soggezione e sopportava silenziosamente le continue umilazioni, le lesioni, le imposizioni. La picchiava per futili motivi, calce e spintoni erano diventati un oprassi anche in presenza di altre persone. In un episodio le aveva addirittura rotto un dito e poi quella gelosia morbosa ed accecante, conseguentemente alla quale le aveva impedito di frequentare le amiche, di truccarsi, di usare scarpe col tacco e abiti succinti. La controllava costringendola ad inoltrargli video per verificare dove e con chi fosse, poi insulti, denigrazioni e la minaccia di diffondere sue immagini compromettenti qualora lo avesse lasciato. Un rapporto malato che aveva stravolto le abitudini di vita di quella giovane donna incapace di ribellarsi al suo carnefice. Quando la sorella e le amiche hanno deciso di aiutarla e si sono rivolte ai poliziotti e alla squadra mobbi e sono scattate le indagini coordinate alla procura che ha disposto il carcere per il ragazzo.